Buonasera e benvenuti a un'altra diretta con la Vernaccia di San Gimignano. Saluto tutti gli amici e fan di questo vino bianco toscano con un'altra degustazione itinerante. Ormai abbiamo iniziato a muoverci all'interno della Toscana. La volta scorsa eravamo a Siena, oggi nella splendida Firenze mi trovo all'Enoteca Vigna Nuova, un passo a un passo dall'Arno e le bellezze artistiche di Firenze. Per parlare di una delle migliori qualità di questo vino bianco toscano, così ormai abbiamo imparato a scoprire atipico, insolito, che non regala nelle sue parti, così diciamo di durezze, questa salivazione fatta di freschezza, ma più che altro fatta di sapidità. Una delle migliori qualità di questo vino, la salinità, la saporosità. E oggi abbiamo quattro Vernaccia di San Gimignano diverse nelle annate, nella tipologia. Tra l'altro altre quattro aziende, nonostante ormai si stia andando avanti con le puntate, abbiamo sempre nuove aziende, sempre grandi ambasciatori di questo vino, di questa denominazione, anche a testimonianza della profondità che c'è all'interno del movimento Vernaccia di San Gimignano. Avremo delle semplici annate 2-2019, una selezione 2018 e chiuderemo con una riserva 2017, così da scoprire la sapidità, che vi ricordo questa micro sensazione, in varie tipologie, quindi in annate e tipologie diverse. E perché la sapidità? Perché la Vernaccia di San Gimignano è associata alla sapidità come qualità gustativa? Un po' è dovuto sicuramente al varietale, quindi all'uva Vernaccia di San Gimignano, ma nascordiamoci il substrato in cui affondano le radici della vite. Queste sabbie gialle, chiamate tuffo, che anticamente erano un fondale marino, un fondale oceane, con il plioceane, tra 2-7 milioni di anni fa, pensate quando la geografia era molto diversa da oggi, difficile pensare a San Gimignano ricoperta dal mare, ma le ultime propaggini del Mar Ligure arrivavano proprio lì e hanno lasciato queste sabbie gialle, ricche di microelementi, ricche di conchiglie, di fossili marini, che troviamo facendo anche un giro, una passeggiata tra filari, che danno questa particolare caratteristica al vino. E come sempre, visto che ci troviamo in un locale splendido, tra l'altro, che ci prepara anche dei piatti, ho scelto degli abbinamenti con queste quattro Vernaccia, insoliti, ma insoliti ormai non è più un termine adatto, perché il binomio pesce-vino bianco l'abbiamo un po' sdoganato con la Vernaccia di San Gimignano e vedremo anche oggi quali piatti ho scelto per questo vino. Partiamo con la prima Vernaccia, l'azienda si chiama Podere Le Volute, annata 2019, un'annata da ricordare a San Gimignano per la vendemmia ritardata, per il ciclo biologico lungo, quindi la possibilità di aver dato all'uva di godere delle escursioni termiche autunnali, quindi fermentazioni lunghe e grande aromaticità. Qui ci troviamo nella parte ovest del borgo di San Gimignano, vicino alla riserva naturale di Castelvecchio e quindi qua i vigneti riescono a godere anche della vicinanza del bosco. La titolare dell'azienda, Claudia Galgani, che ha iniziato l'attività nel 1999, subito proiettata alla conduzione biologica. Ecco, oggi non farò errori in questo e sarà molto facile perché sono tutte e quattro, tutte e quattro queste aziende conducono la viticoltura, secondo dettami appunto dell'agricoltura biologica. Tra l'altro qui nel retroetichetta si può vedere anche le certificazioni di tre Vernaccia su quattro proprio della agricoltura biologica e questo è un grande segno di rispetto del bellissimo ambiente che è San Gimignano, rispetto della natura, delle biodiversità, rispetto della fauna, fa bene al vino, fa bene alla salute umana. È un segno di rispetto del nostro pianeta. Quindi vado ad assaggiarla. Quindi è nata 2019, abbiamo detto, grandissima vendemmia. Notiamo, questa è una vinificazione, solo un acciaio, una spremitura soffice, un colore, un giallo paglierino molto luminoso, molto brillante. Questa è una Vernaccia recente e questa sua grinta, questa sua energia la dimostra già all'olfatto. Una componente tutta grumata nel pompelmo, nel limone, ed è un floreale amaro, direi, di biancospino, di giglio. Una nota anche vegetale di acetosella, anche di timo. E poi la nota immancabile della Vernaccia di San Gimignano, questa nota minerale. In questo caso sembra quasi polvere di gesso. Al gusto hai una bocca voluminosa, è un bel bilanciamento tra l'acidità, ancora viva. Questa è un'annata 2019, ma anche nel finale si sente la salinità, si sente il gusto sapido, che richiama quasi una caramella al limone, ma non dolce, bensì quasi salata. In abbinamento a questa Vernaccia io ho pensato a un piatto vegetariano. Anche perché ormai, devo dire, sono sempre di più gli appassionati di vino che comunque hanno accolto come filosofia di vita il cibo vegetariano, l'essere vegetariano e quindi eliminare dalla loro dieta la carne animale, e per questo devono rinunciare al piacere del vino. Assolutamente no. Qua l'Enoteca Vignanova ci ha preparato una schiaccia veggie, al cui ripieno troviamo una rapa rossa, maionese al limone, formaggio caprino e rucola. Quindi attenzione, troviamo delle durezze, perché il caprino dà acidità, la rucola dà una tendenza ammiccante, il limone dà tendenza acida. Poi è vero che è tutto equilibrato dal cereale, dalla schiacciata, però quando nel cibo troviamo delle componenti di durezza dobbiamo fare molta attenzione al vino. E la vernaccia di San Gimignano ha una tendenza morbida nel DNA che aiuta a equilibrare tutti questi piatti, a volte un po' complicati, come può essere questo. Quindi io la vado ad assaggiare per voi, mi dispiace, ma è un piacere tutto mio. Si sente molto l'aromaticità della rapa rossa. Anche la maionese al limone è protagonista. A questo punto sentiamo come si combinano i sapori con la vernaccia. Un bel connubio. Un bel connubio perché la tendenza dolce della schiacciata è bilanciata da ancora questa bella acidità, questa freschezza del vino e la tendenza morbida comunque va a stemperare le durezze e la sapidità finale va a condire questa schiacciata esaltandone ancora di più sapori. Quindi vedete, cari amici vegetariani, non disperate perché si può tranquillamente abbinare una vernaccia di San Gimignano anche a un simpatico e sfizioso piatto vegetariano come questo. Bene, andiamo avanti. Io amo quando si abbina la vernaccia al cibo perché ho davvero la possibilità di degustare delle prelibatezze. E passiamo a un'altra azienda, stessa annata, 2019, azienda Alessandro Tofanari, Podere la Castellaccia, la vernaccia di San Gimignano, Ciprea. Ecco, qui già il nome Ciprea, sapete cos'è? È un mollusco, quello con la forma tondeggiante e avete visto quante volte i produttori hanno scelto il nome di una conchiglia, di un mollusco. Tra l'altro qui in Podere le Volute troviamo un riccio di mare. L'ho detto prima, quando, se si chiudono gli occhi e si degusta la vernaccia di San Gimignano, a volte ci dà l'impressione di bere un vino bianco prodotto sul mare, anche se ci troviamo nelle colline della Toscana centrale. Voi, forse appunto per questo particolare terreno in cui affondano le radici, voi per il vitigno, ma le sensazioni iodate, le sensazioni proprio di conchiglia, di guscio d'ostrica, sono preponderanti. Intanto qui mi portano, vedo, un altro grande piatto. Si diceva Alessandro Tofanari, ci troviamo in un'altra posizione rispetto a Podere le Volute, ci troviamo a Montauto, quindi questa volta nella parte est della denominazione. Stesso anno di Podere le Volute, quindi inizio della produzione nel 1999, Alessandro e Simona, marito e moglie. Alessandro Tofanari prima era un prodotto, prima di fare vini, era un produttore di erbe officinali organiche e quando acquista questi sei ettari nella zona in cui adesso si trova, erano tutte sterpaglie, rovi, era tutto incolto e quindi fin da subito decide di improntare, visto che partiva da zero, a una viticoltura biologica anche lui. Questa è una vernaccia che beneficia di un 4 mesi di surlì, quindi sui lieviti. L'abbiamo detto altre volte che significa affinare sulle fecce fini. Queste fecce che rilasciano delle proteine particolari, che danno persistenza aromatica intensa, che evitano precipitazioni e danno questo gusto a volte morbido alla vernaccia di San Gimignano. Stessa annata, sempre un paglierino molto luminoso, con qualche riflesso dorato. Ecco, era un produttore di erbe officinali e pare che, sarà una casualità, ma è una vernaccia molto profumata, soprattutto nel vegetale, nell'erbace aromatico. Si sente la saga, il rosmarino, il timo, la maggiorana, che arrivano quasi prima del fruttato. Poi un bel mix, anche qui chiaramente un'annata 2019, fresca e giovane e giovanile, l'agrumato in primo piano, insieme a una susina gialla fresca. Si inizia a sentire un frutto tropicale, ma molto fresca anche lui, un mango. Poi un'erba cipollina, anche qua, e una sfumatura finale di ghiaia, questa mineralità quasi, direi, di salgemma. È come se si percepisse già il sale al naso. L'impatto in bocca è proprio salato. Ecco, è la prima sensazione che si avverte degustando questa vernaccia. La salinità, la sentiamo in fondo alla lingua, non ci dà una salivazione abbondante e così, diciamo, acquosa, come è la freschezza nei vini, ma ce la dà più limacciosa, è più densa, davvero un sapore, un sapore che ricorda un agrume candito quasi insaporito nel sale. Che piatto ho pensato per questa vernaccia di San Gimignano? Eccolo qua. La vedete? Una tartar. Si chiama questo piatto dell'Enoteca Vigna Nuova, la tartar vigna, che è una tartar di manzo con capperi, aceto balsamico, senape, interessante la senape perché anche il retrogusto di questa vernaccia ricordava un po' la senape, e cipolle. Sapete che la carne cruda in sé non ha tanto sapore, no? Ecco perché viene condita, viene condita con la senape, con la maionese, con il cappero, e dà una sensazione gustativa di pastosità al palato, di grassezza. Ecco perché ci vuole un bel mix di acidità e di safidità. Quindi me la vado ad assaggiare, sentiamo che tartar preparano qui all'Enoteca Vigna Nuova. Chiaramente gli dà una spinta incredibile questa maionese, questa senape. Io direi che si esalta una vicenda. Si esalta una vicenda perché la vernaccia gli dà quella salinità che manca al piatto e queste caratteristiche, questa tendenza grassa alla masticazione, aiuta ancora di più a far uscire la componente fruttata del vino. Quindi un connubio perfetto dove vino e cibo non solo si uniscono, ma si esalta una vicenda. Quindi vedete un vino bianco che abbiamo messo all'inizio una schiacciata vegetariana, adesso su una tartar di carne di manzo, ma andiamo avanti. Andiamo avanti con la terza vernaccia di oggi. Cambiamo annata. Cambiamo annata e abbiamo l'azienda Il Palagione. Il Palagione con la vernaccia di San Gimignano Lira nell'annata 2018. L'annata 2018 devo dire che rispetto alla 2019 è stata considerata meno fortunata perché c'è stata, come dire, fino alla prima metà d'agosto un clima molto umido. Ci sono state tante piogge, quindi tutta questa umidità nell'aria costretta a un grande lavoro in vigna, un grande sforzo in vigna. Poi fortunatamente dopo la seconda metà di agosto fino al primo settembre il meteo è cambiato e ha consentito di portare a termine la vendemmia, però si è assistito a delle vernacce di San Gimignano più contenute anche nella gradazione alcolica. Probabilmente più snelle, ma questo non necessariamente può essere un difetto. Il Palagione, Giorgio Comotti e la moglie Monica hanno un background che non viene certamente dal vino. Loro, provenienti da Milano, facevano tutt'altro. cercavano una residenza nella bellissima campagna toscana, trovano questo Palagione che già nel 1500 era residenza di famiglie di contadini che lavoravano quella zona nel profondo sud della denominazione Vernacce di San Gimignano. L'acquistano nel 95-96 proprio come residenza, ma capiscono che fare vino in questa terra è una calamita. E allora rimpiantano vigneti nel 97, ma come dicono loro, fino al 2001 sono dolori. Soltanto successivamente iniziano ad avere i primi successi. Hanno due porzioni di vigneti diverse, perché quelle intorno al Palagione sono molto argillose, zone molto ventose, dove ci sono anche dei calcari antichissimi che risalgono al Triassico. Nel 2014 acquistano una porzione vicina alle mura, più siccitosa, più sabbiosa, queste argille del Pliocene, queste sabbie marine, che danno un volto diverso alla Vernaccia di San Gimignano. Si chiama Montagnana, questi vigneti acquistati nel 2014, e questa è proprio una selezione che viene solo da lì, va bene? Quindi hanno voluto creare una Vernaccia che viene soltanto da quei vigneti. Oggi, chiaramente, sono aiutati anche da figli, ma a me, un po', leggendo un qua e là, interessandomi alla storia dell'azienda, mi sono segnato un passo che mi piace leggervi, perché l'ho trovato molto significativo. Quando dicono, venendo da Milano a San Gimignano, volevamo essere scomodi, fisicamente stanchi, ma intellettualmente felici. Io trovo che questo passo sia bellissimo e che racchiuda molto di quello che significa fare vino, che non è soltanto produrre una bottiglia, etichettarla, ma sposare e condividere uno stile di vita, rurale, attaccato alla terra, e questi sono valori che stanno cercando di trasmettere anche ai figli. Il palagione non solo è biologico, ma conduce anche addirittura a una viticoltura, secondo la filosofia biodinamica, quindi di rado, secondo i rettami di Rodolf Steiner. Io la vado ad assaggiare, questa lira, che fa un 10% di affinamento in barrique, quindi solo un 10% 12 mesi su lieviti, il resto in acciaio. Quindi c'è un piccolissimo uso del legno. Il legno, vi ricordo, spesso aiuta a tirar fuori la sapidità al vino. È un giallo ancora vivo, molto luminoso, un paglierino tenue con qualche riflesso dorato. Il naso si fa ricco, ricco non soltanto nel fruttato di nespola, di susina gialla, di pesca molto, e in un floreale sia dolce al gelsomino che amaro di biancospino, ma anche in certe note, diciamo, tropicali. Qui si sente il lisci, si sente la papaya, però tutto ancora molto pimpante, molto fresco, ed una nota quasi sulfurea. Ecco, qui la mineralità si sente in questa, direi quasi di pietra focaia. Un naso molto interessante, molto complesso anche. È una vernaccia che ha, allo stesso tempo, grinta, ma è anche molto facile da bere. Si sente che ha una ricchezza di gusto, ma scivola via. Quindi è uno di... sono riusciti a ricreare in questo vino ricchezza, complessità aromatica, ma allo stesso tempo una grande bevibilità. Il gusto finale è tutto di erbi aromatiche, miste a fruttato giallo, molto, molto sapido. Davvero grande sapidità in queste... in questa vernaccia che nasce appunto su queste sabbie marine. E qui, con tutta questa saporosità, io ho pensato a un primo piatto, delle... si chiamano i tagliolini della fattoria. Questo è un ragù in bianco di coniglio, e questo ragù in bianco di coniglio è legato dalla mela. Tra l'altro qui la mela è anche una... la mela matura è una componente fruttata di questa vernaccia. Insieme, vedete, ci hanno messo a decorazione anche una foglia di alloro. Si sente proprio una grande aromaticità simile a quella del vino. Sono molto curioso di assaggiare... ha un bellissimo aspetto questo piatto. Devo dire che è anche molto buono, complimenti allo chef. La tendenza dolce della pasta, mista alla carne bianca che dà struttura, ma ha tutta questa aromaticità delle erbette. Un altro matrimonio felice, un altro matrimonio felice tra... l'avevamo già visto, forse non ricordo, ma comunque questi piatti, questi primi toscani a ragù di carne bianca dove c'è tante erbaromatiche, trovano proprio come vino ideale, devo dire, la vernaccia di San Gimignano. Uno degli abbinamenti più riusciti, secondo me, per questo vino. E, ahimè, ci abbiamo all'ultimo, alla fine, di questa degustazione con un'altra grande ambasciatore della vernaccia, di questo movimento, l'azienda Cesani. Cesani con la sua riserva, vernaccia di San Gimignano, riserva 2017, Sanice. Sì, qui, che storia ha? Intanto dove ci troviamo? A Pancole, quindi lungo la via Francigena, nel nord-ovest della denominazione. E ora voi penserete che, certamente, San Gimignano è un comune piccolo, quindi chissà mai quale differenze ci saranno tra le varie aree. In realtà, ad esempio, qui a Pancole è una delle zone dove piove meno rispetto ad altre zone del comune, delle zone più siccitose. E questo ce ne accorgiamo nella concentrazione, ad esempio, dei suoi vini. Cesani è una famiglia che proviene dalle Marche, origini marchigiane. Abbiamo già visto altre storie di provenienza marchigiane nell'areale di San Gimignano, che tra l'altro poi me lo sono fatto anche spiegare, e magari un giorno potremo parlare anche di questo, che è una curiosità del territorio, con Guido e Annunziata, che acquistano i primi fazzoletti di terra intorno al 1950, ma la loro è un'agricoltura di sussistenza, allevano un po' di bestiame. La vera viticoltura moderna parte con il figlio, Vincenzo Cesani, che si specializza soltanto in vino e olio. Oggi l'azienda è portata avanti dalle due figlie, da Letizia e Maria Luisa. Letizia, ricordo, è stata anche presidente del consorzio, prima di Rina Guicciardini-Strozzi. Vigneti esposti più che altro a est, ci troviamo a 300 metri sul livello del mare. una grande conoscenza fazzoletto per fazzoletto dei propri vigneti che permettono di condurre al meglio l'agricoltura. Terreni sabbiosi con una grandissima presenza di fossili marini, di conchiglie, davvero ricchissimo qua di conchiglie, che tra l'altro facendo un giro, andando a trovarli in azienda, vi faranno anche vedere, proprio toccare con mano. Quindi qui siamo però, cambiamo annata, intanto è una riserva, non è quindi altra tipologia rispetto alle altre, e cambia anche l'annata, perché è una 2017. Vi ricorderete che è annata difficile stata. Ci sono stati dei germogliamenti precoci, poi però c'è stata una gelata aprile tardiva, che è stata tragica, anche nell'areale di San Gimignano, soprattutto per i Fondovalle. E in più è stata un'annata molto siccitosa, perché si può dire che da maggio a inizio settembre non ha piovuto quasi mai. Quindi uno stress idrico incredibile per le piante, una vendemmia anticipata, un calo drastico della produzione. Il risultato è stato una vernaccia concentrata. Va bene, quello non è stata chiaramente un'annata da buttare, perché in realtà l'uva che è rimasta era davvero ricca di sostanze, sia per i profumi che per il gusto. Prego, portate pure il piatto. Nel frattempo vado a degustare questa riserva. Qui cambia il colore, devo dire. Vuoi sarà per l'annata, vuoi sarà perché è una riserva. Intanto, ecco, vi ho detto nel video dell'unboxing che mi ha sempre incuriosito questa vernaccia, perché io dentro di me quando l'ho degustata ho sempre creduto che si affinasse nel legno. Un po' per certi sentori, per il gusto, per il colore. Secondo me questa vernaccia un po' di affinamento nel legno lo faceva, invece fa un anno sugli eviti in tini d'acciaio inox e due anni in bottiglia. Quindi non tocca legno, eppure ha lo stesso una grande ricchezza aromatica. Tanto ha un colore, ha un dorato splendente, davvero già ambitante alla vista. Il profilo olfattivo cambia un po', ci si sposta molto sul giallo. Una gelatina qui è di susina gialla. Il frutto tropicale avanza maggiormente nella papaya, nell'ananas, ma rimane sempre, rimane sempre, ecco, pimpante, assolutamente, non è un naso adagiato. Ecco, curioso il vegetale di alga marina, proprio di alga, ecco, come se, proprio a richiamare quest'origine marina del vino, ma di guscio d'ostrica anche, di finocchietto, di timo. Dei primi accenni, direi, di miele e di eucalipto. Quasi si inizia le prime accenni di note terziarie. Un naso molto ambitante, molto ricco. La bocca è di un equilibrio magistrale, c'è questa avvolgenza glicerica, questa morbidezza, che fa emergere proprio la sua caratteristica migliore. La sapidità, la salinità. Richiama proprio in bocca delle sfumature di salgemma, di iodio e di tanto frutto giallo maturo. Davvero salmastra. E quindi, con una riserva così concentrata, così ricca, non potevo che scegliere un piatto ricco. Secondo voi cosa? Eccolo qua, delle, me lo sono segnato il piatto, delle sovraccosce di pollo, ripiene di patate e pancetta, quindi una grande sapidità, accompagnati da un purè di cavolfiore e anche dei funghi porcini. Quindi pensate che ricchezza di sapori che ha questo piatto, la tendenza dolce della carne e del cavolfiore, la sapidità della pancetta che ha bisogno di morbidezza del vino, no, la struttura ha bisogno di un vino bianco sì, ma di un vino bianco dalle spalle larghissime. Quindi mi manca la forchetta, scusatemi, è stato un errore mio che ve l'ho resa forse. Eccola qua, grazie mille, perché voglio andare a tagliare un pezzettino di questo pollo, ma insieme al purè di cavolfiori e insieme al fungo porcino. Siamo a livelli altissimi, eh, di persistenza gusto olfattiva, d'aromaticità. Ecco, qui è importante che il gusto del piatto e il gusto del vino vadano in parallelo e devo dire che ci vanno. Quindi il cibo non sovrasta il vino, il vino non sovrasta il piatto. Tutte queste componenti di salinità vanno a bilanciare bene le tendenze dolci della carne e del pollo, il purè di cavolfiore e il gusto finale iodato, salmastro, va, come dire, a comporre definitivamente questo piatto davvero ricco, ricco di sapore. Si chiude davvero in bellezza, così, con questo piatto. Io vi ricordo il prossimo, e ahimè, di questo ciclo, ultimo appuntamento con le dirette della Venaccia di San Gimignano, il 3 di marzo, eh, quindi segnatevi già la data, perché chiuderemo in bellezza, eh, chiuderemo in bellezza con questo vino che ci stufisce ogni volta, devo dire, è un grande vino. Grazie all'Enoteca Vignanova che ci ha aspettato e che ci ha preparato questi fantastici piatti, grazie a produttori della Venaccia di San Gimignano, seguitelo su social il Consorzio, invito a seguirci anche la parte, alla prossima, vi ringrazio per la vostra attenzione e vi saluto. Alla prossima.